Il mio consiglio per addormentarmi meglio è coccolare la mia adorata cucciola verta, che è sofficissima e calda. Io consiglio a tutti i bambini che hanno un animale in casa, che prima di andare a letto, di coccolarselo o parlargli. Sarà una notte molto più bella e non farete sogni brutti. I bambini di filo per filo, segno per segno, vi augurano sogni d'oro. Notte!